bilancia carissimi che bello questo clima prefestivo così frizzantino con dei pianeti a vostro favore mercurio e giove in modo particolare progetti di viaggio progetti legati al natale con la famiglia da soli con gli amici come volete tutto è favorito in modo particolare giovedì pomeriggio venerdì e sabato con questa bella luna al vostro fianco che vi dà l'ispirazione giusta e vi porta i consensi altrui il lavoro per quanto un po stressantino per quanto un po faticosino lo portate a casa bene gestite bene tutto quanto anche se forse con la lingua sulla punta delle scarpe ripeto per la fatica però tutto va bene anche dal punto di vista finanziario secondo le stelle dovrebbero arrivarvi notizie confortanti tanto che potete permettervi anche regali natalizi e piaceri natalizi d'un certo pregio si fornica con grande meticolosità l'attenzione al dettaglio suino e il vostro forte bravo grazie a tutti grazie a tutti